E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRiggy01 e oggi con il nuovo taglio di capelli andiamo subito su Pokémon Nero ragazzuoli Eccoci qua ragazzi, ci siamo fermati qui Ok Andiamo, andiamo, andiamo Usciamo da questa bellissima palestra affrontata molto easy, devo essere sincero Ok Allora Ora mi visito un po' la città ragazzi, ho letto i commenti che Molga si può catturare, tutte queste cose si possono catturare poi Vediamo quale Pokémon scegliere per la squad ragazzi Ragazzi qui Attacco X si trova E comunque ragazzi, se volete lottare con qualcuno Ogni giorno Se andate alla ruota panoramica ci dovrebbe stare qualcuno Che puoi lottarci contro, si ok perfetto ragazzi, perfetto, 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 perfettissimo, perfettissimo Ok allora, mozzo, dovrebbe essere super efficace Oh, uno di vita d'antenna è ormai andato ragazzi Addio godita Arroganza per Kaiman Perfetto, abbiamo sconfitto ragazzi Molto easy Oh, attenzione Ruota panoramica con una ragazza molto sexy Wow, proprio l'attimo, mi sta venendo un po' di paura Ok Non mi ricordavo questa cosa ragazzi Balladutto va troppo in arto, ho paura Oh no, oh no Oh no ragazzi Va bene, è molto divertente comunque Che paura, stammi vicino per favore Oh sì, oh sì, baciamoci Coccoliamoci, coccoliamoci Coccoliamoci Grazie, intanto volevo provare la ruota panoramica Comunque troppo le cabine sono per due Non volevo fare la figuraccia Spaventandomi di fronte l'amica Ok, dammi qualcosa però Ah ok Magari un'altra volta anche, va bene Si ricorda ragazzi ogni giorno Se andate qui vi danno Cioè si danno una persona diversa si ricorda Prima la affronti e poi Puoi andare insieme a lei Ok Ragazzi ora il campo è accessibile Il campo è accessibile ragazzi E possiamo combattere Perfetto, 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 perfetto GG, GG, GG Qua possiamo allenarci ragazzi nei campetti Secondo me è molto utile Si può stare Ok E' andato da KO Eh si è andato da KO E' andato da KO Duglet ragazzi Il livello 25 per Kaiman Attenzione Vuole imparare il bullo Che fa bullo? Ok Non ci serve ragazzi Non ci serve Non ci serve ragazzi Ok Perfetto Ma tutti Posso sfidare lì? Ah no Ok Questo no Questi? Ok no Ah non tutti ragazzi Ok Eh ma ce ne stanno pochi eh Eh perché questi modi Stanno allenati ragazzi Quindi non Vedi vedi Non combattono Vabbè intanto solo una Abbiamo fatto per ora Poi penso quando Si finisce il gioco Ragazzi Se ricordo Ci saranno più Più avversari Penso Perfetto Allora Se ricordo Devo andare Verso Qui Verso sinistra Ragazzi Giusto? Se ricordo Si eh Oh Comor Ricky aspetta Visto che entrabbi Abbiamo Vediamo chi è più forte Vai Vediamo ragazzi Vediamo chi è più forte Ovviamente io Perché io sono Ricky E tu sei Comor E sei un coglione Fratello Comor E poi se non sbaglio Comor ragazzi In Pokémon Bianco e nero 2 Diventa capo palestra Il primo capo palestra Se ricordo Ma che ridere? Facciamo turbo sabbia E io non ce l'ho Brucia pelo Ah ragazzi Mi è morto Mi è morto Violet Però Con turbo sabbia Abbiamo fatto Ha fatto un bel lavoro Ha fatto un bel lavoro Io direi Bolla raggio Va bene Attacca l'idea Va bene Va bene Va bene Bolla raggio Ragazzi E addio gli Eppard Perfetto Penser Deve essere quello di Popu Così ricordo Ragazzi Perfetto Cazzo Facciamo con Eloi Ma sta scherzando? Ragazzi Mi ha tolto Tutta quella vita Cosa Zio vera Morso Mi ha tolto Tutta quella vita Oddio Ti prego Uccidilo Ehi Bravo Frog Mamma mia Ragazzi Mio fratello Eh dormi Ora dormi Dormi Ok Tranquillo Vuole sta quello Ehm Mi chiamo Dracula Uccello contro uccello Ragazzi Uccello contro uccello Let's go Allora abbiamo confuso Con confusione Individuo Vediamo un po' Ragazzi Si colpisce da solo E noi Con confusione Quasi Quasi Ancora confuso La volta Attacca Aria Aria Soio Vabbè ragazzi Brutti colpi Oggi Oggi è la giornata Dei brutti colpi Ragazzi Incredibile Eh Devot Merda 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 Tosta Tosta contro Dewot Ragazzi Sberle Sberletese Ok Attacchiamo Per primo Ok Brutto colpo Oggi è la giornata Dei brutti colpi Ragazzi Non vi ho fatto nulla Non vi ho fatto nulla Ragazzi Poca l'energia Poca l'energia Ragazzi Ancora Sberletese Un altro Brutto colpo Per favore Se no Fai 5 Sberletese Mua Mamma mia Ragazzi Pyro Incredible Addio Comor Addio Comor Perché Sono troppo Forte Oh Camelia Forse andiamo Dove andiamo Guarda che ci sta Vulcano Come cazzo Ehi Camelia Che bella Tonsfire C'è qui La vita è importante Sapersi divertire E questo che è Ah Nardo Il campione di Unima Che insolenza Guarda che ti ho sentito Piacere Mi chiamo Nardo Sono il campione Della Lega Pokémon di Unima Ok Dicevo una zanzara Ragazzi Cosa vuoi fare Quando vuoi essere Campione Vuoi diventare forte Oltre a ciò Che altro si può desiderare L'allenatore più forte Viene programmato Campione No Diventare forte Credi sia sufficiente Come obiettivo Non frentedmi Che con questo Non sto insinuando Che hai torto Io per esempio Voglio anche fare in modo Che la gente Si infezione Il Pokémon Per me è una cosa Molto importante E me ne convinco Sempre di più Ma forse Mi capirete meglio Se ve lo dimostri A colazione 2v2 Ok grazie Vai Come ha fatto poi Rimettere in sesto La squadra Lui ragazzi Cioè con quale Neddoto Mi sta dicendo Cioè con quale cosa Ragazzi È un meme Doppio Doppio Herder Herder Doppio Leopard Va bene Va bene Va bene Oh posso dire Che fa veramente ridere Questa cosa ragazzi Comunque io direi Di fare Spuriate Ok meno male Eh ragazzi Mi deve imparare Anche il mio Leopard Brucia pelo Eh non è Non è brutto Non mi ha fatto nulla Ragazzi Riduttore Ovviamente su di me Ragazzi Cioè Incredibile Mettiamo Pyro Allora Leopard In seguimento A questo qua E io Sberle Tese Ragazzi Che è bella Bella Super Efficace Brutto Colpo Oggi è la giornata Dei brutti Colpi Ragazzi Veramente Oggi È il video Dei brutti Colpi Non sto Scherzando In seguimento Sberle Tese Ok Costitui Comunque Dwerdier Ragazzi Posso dire Rompo Nel piazzo Rompono Veramente Tanto Dwerdier Ci sono persone Che come Comor Puntono A diventare Più Forti Ed altre Invece Basta Poter Stare In copia Di Pokémon Allora Vogliamo Andare Il ponte Mobile Di Libri Giocole Qui vicino Eh si Ma merda Pensavo mi curasse Ragazzi Non mi ricordavo Non mi ricordavo Pensavo mi curasse Ti opera Pensi Va bene Va bene Va bene ragazzi Shottate un brutto colpo Intanto Un'altra volta Però ragazzi Oggi è veramente La giornata Dei brutti colpi Intanto Vuole imparare Barahonda Leva 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 Impara Subito Barahonda Hansage Vai Signor Dracula Va Vai Hansage Ragazzi Io direi Ario Soio Quasi Shotato Parassi Sieme Va bene Non ci toglie Ancora Ario Soio Ragazzi E va a letto Panseggia Ora Immagino Che c'è Anche L'altro Panpur Tipo Acqua Ragazzi Io lascerei Lui Ti faccio Un bel Confusione Una bella Confusione Che vai A letto Con Oddio Dove sono Oddio Non è vero Ora Ok Ok Abbiamo ancora Il parassi Sime Pro Amare Soio Ragazzi Vai Ok Abbiamo fatto Di più Morso Merda 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 Eh Dobbiamo Sacrificare Dracula Ragazzi Purtroppo Questo Dracula Non si Volverà Mai Siccome Sta Morendo Sempre Mettiamo Mettiamo Frog E facciamo Baragonda Ragazzi Siccome L'ha appena Imparata Si usa Distrutto Arato Ragazzi Mangiato Vivo Mangiato Proprio Vivo Voglio dire Di fare Una cosa Ragazzi Una cosa Molto Importante Cioè Questa Condividi Esperienza E Diamo A lui Ragazzi E Sì Ragazzi Perfetto Direi anche Di curare I pokemon Allora Se io vado Qua so Non l'avevo Visto Ragazzi Stavo dicendo Se io vado Qui sopra Vedere I pokemon Che ce l'ho Da catturare Invece 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 No Fratello Munna Inseguimento Dove Dove Sì Super Ficace Mintia No Hypnosi Perché Mi dove Usare Hypnosi Ragazzi Scusa Quanta Precisione Ha Hypnosi 50 70 Quanto Va Ecco La luce Lunare Mo Segura Mo Rompe Il Cazzo Questo Munna Ragazzi E va Bene Così Va Bene Così Vai Dormi Dormi Leopard Ma Chiusi Gli Occhi Ragazzi Leopard Ma Ogni Pokemon Che Dormi Chiude Gli Occhi Ragazzi Ma La prima Orte Ci Brutto Brutto Colpo Brutto Colpo Ragazzi Brutto Colpo Brutto Colpo Brutto Colpo Mega Bolla Vediamo un po' Chi si può catturare Ragazzi Leopard Ok Attenzione Attenzione Ragazzi Mincino Mincino Ragazzi Dai catturiamolo Perfetto Ragazzi Catturato Mincino Con la Pokeball Il Pokemon Cincilla Perché Cincilla Però Ok Questo è Molto Cioè Fa ridere Ragazzi Cincilla Sembra Una parolaccia Vi giuro Altri Pokemon Selvatici Qui Chi si può Trovare Oddio La Spazzatura Va Bene Catturiamo Anche Questo Ragazzi Ok Pokemon Spazzatura Catturato Perfetto Penso che non si trova più niente Qui Ora Vedo un attimo Il volo Ragazzi Invece No Ragazzi Si trova un altro Gotita Gotita Signori Che si cattura Oh Che cazzo è successo Qua Che si cattura Ragazzi Vai 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 Preso 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 anche Gotita Ragazzi Poi se Puoi cambiare Squadra Ragazzi Posso Parla In qualsiasi Momento Basta Che Le alleno Off camera Ok Allora Qui c'è una Ridenizzante Attenzione Mbattiamo Questo qua Ragazzi Al volo Ok Vai Combattiamo Rapapam Papam 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 Ragazzi Non so se avete visto Ma un altro brutto colpo Con morso Ragazzi Oggi è la giornata Dei brutti colpi Ragazzi Veramente Non sto scherzando Ok Perfettissimo Oh qui che c'è sta? Un'altra Poké Ball? Oh Zinco Ok Zinco va benissimo E cos'è? Ah doppio Ok ok Stavo di che cazzo è ragazzi? Oh ragazzi sconfigo tutti questi qua Va bene Faccio proprio al volo Al volo al fly proprio Ragazzi Violet mi ha imparato brucia pelo Però mi ha avvelenato Pyro Poi sto stronzetto di Wirlipid ragazzi Dragovello 24 Vabbè lasciamo Pyro ragazzi Vabbè con Nitro Carica Let's go Let's go Let's go Sottato Nitro Carica comunque è buonissimo ragazzi Mamma mia Ok questo l'abbiamo fatto Vediamo se abbiamo un Antidodo ragazzi Per non tornare indietro Zio Pera Cura totale Antidodo Buono Buono ragazzi Buonissimo dai Ok Ok questo non combatte Non combatte Non combatte Combatte Ma ragazzi combattiamo con Todos Vediamo se i brutti colpi Mamma mia Incredibilmente Funzione Devo dire di mettere Taiman qui ragazzi Tanto mi usirà Penso una mossa di Minutolettro Moume con Con esta Nitro Carica Guarda Cento Cento Nitro Carica Ragazzi Ok Onda Shock Si gode Si gode Quanto sono furbo Fratellino Vieni qui Che ti rompo il culino Shottato Vai arroganza Vai arroganza Vai con l'arroganza Un altro blitzel Ok Va bene La biadomba No No dai Non puoi evitare l'attacco Tu fratello In seguimento Non mi fa niente Perché sono tipo buio Bravo Bravo Attacca signor Kaiman Anzi signorina Kaiman Arroganza Aumenta ancora di più l'attacco Ragazzi ora diventa Hulk Ok Ora diventa Hulk E' bellissimo ragazzi Oh come va Citare elettrico Che cazzo serve Ok Vai combattiamo Combattiamo Ok questo fatto Erronnetto combatte Erronnetto combatte Ragazzi Lì c'è Comor Comunque Erronnetto combatti L'artista Fratello Qua c'è emo L'artista Di questo come cazzo Succede In seguimento ragazzi In seguimento ragazzi Brutto colpo Ma dove è volato È volato ragazzi È volato Ma che perde è volato Non si sa dove è andato Dai non puoi rimanere Con uno di vita Zio pera Dai Ho fatto meno si Psicoraggio Lo so che meno si Psicoraggio Sono troppo forte A prevedere Tutto ragazzi Ok Perfetto Dracula Al 25 Oh Atrazione Che cazzo faceva Atrazione Mettiamo ragazzi Mettiamo Mettiamo Romperà il cazzo Vai E anche questa è andata Eccoci qua Andiamo Ciao sono io Puoi passare Il ponte Mobile Ci sono quei Dienatori Che vogliono sfidarti Grazie Sentiamo Guardate Madonna Ragazzi Che bello Ragazzi Che bello Ragazzi Io do Lasciarvi un impegno Con un programma televisivo Ok Bene Come Ho visto Una pokeball Ragazzi Come si raggiunge Ok Da qua Fuori ragazzo Laggiù Papapam Mizzica Iperpozione Vediamo se c'è qualche strumento Qua nascosto Ragazzi Non penso Però No no Non penso Un pezzo Forse nel ponte Andiamo Più un potenza Hai visto l'ombra del pokemon Un uccello Proiettato sul ponte Al volte La loro ponte Di sotto Ok Quindi se io vado qua Più mare azione Io voglio il pokemon Ma non esce ragazzi Non mi ricordo Non mi ricordo Ragazzi Ok Ogni volta che passa La nave Il ponte Ok Questo ovviamente La nave Sennò si spacca In due ragazzi Si distrugge Si desintrega Oh che è stato Che cazzo è stato Ragazzi Oh Deposito frigo Già finito Pensiamo Più Oh Siamo arrivati Che ha detto Il ponte Charizard Ponte Charizard Ma dove Allora Proseguiamo Rega Oh c'è comodo Così dareste voi Alenatore Di cui parlava Camellia Io sono Rafan Il capolestre Di questa città Ok Abbiamo passato Il ponte Quelli del team plasma Se riuscite a rifugiarci In città Di pure quello che vuoi E stati fatto Che siete Veri di voi E quelli del team Pazzo Mi sono ripetati In città Non potete Ripetare di termine Omano Siete valenti I allenatori Ok Ah che stronzetto Ragazzi Vai vai Ora visiamo Un po' la città Ragazzi Ok Ok Andiamo su Andiamo a lavorare Laggiù Nel deposito Tra la 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 Cazzo WTF bro E tu Sì Vai Fiamma Patto Ragazzi Attenzione Io Togliare Il riduttore Ragazzi Ma fammi Imparare La fiamma Patto Ragazzi È carina Come Mos Dai Però Devo dire Una cosa Prima Devo dire Una cosa Ragazzi Prima Ho sbagliato Attacco speciale 46 Quindi Lui è fisico Ok Va bene Capo Quante roba ci sta Qui ragazzi No Ho combattuto Contro Super 4 Da Capo Mon Eh Minchia Ho iniziato L'avventura Tra un po' Ragazzi Opera Lotta Rotazione Sì Lotta Rotazione Che cazzo Era Ragazzi Oh Cristo Oh Cristo Ragazzi Ora mi Ricordo Allora Io direi di far Allora Bruciapelo Rischiamo Bruciapelo Ragazzi Io direi di fare In belle Sverletese No Porca Troia Va bene Va bene Va bene Scintilla Va bene Paralizzato Ragazzi Non va bene Per un cazzo Ok Vabbè Abbiamo fatto Danno Abbiamo fatto Danno Dai Allora Se lui Mi ha usato Sverletese Cioè Se lui Mi ha usato Scintilla Io direi di fare Un bel Bruciapelo Ok Oddio Ragazzi Direi di fare Un'altra Horta Sverletese Ok Forse Sì Attenzione Buono 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 Il primo È andato Mamma mia Ragazzi No Ho sbagliato Ho sbagliato Mi è morto Il più forte Ah ok Ma posso mettere Gli altri Allora Ovviamente Non attacchiamo Con Kaiman Ragazzi Ma Attaccheremo Con Wubat E facciamo Aerosio Ok Merda Ehm Sembiotomba No ragazzi Mi ho fottuto Ok 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 Va bene Va bene Porca Troia Va bene Un cazzo Va bene Ok Intanto Entrappolato Vai Facciamo Inseguimento Acquaggetto Ok Meno male Che ho cambiato Ragazzi Eh la madonna Quanto mi toglie No Insidia Vabbè Ragazzi Brutto Colpa È la giornata Dei brutti Colpi Va bene Dunque È la giornata Dei brutti Colpi Ragazzi Incredibile Perché Kaiman Angel Al 27 Ma il mio Ancora Non si è Evoluto Ragazzi Ma è una cosa Stranissima O sbaglio Vai frog Credo in te Vai frog Credo in te Bravissimo 1v1 Ragazzi Barahonda Hey Bravo frog GG per frog Ragazzi Che sta a livello 24 Violet A livello 23 E Kaiman E niente Ok Perfetto ragazzi Oh è difficilissimo Ragazzi Non mi ricordavo Così Allora Vediamo ancora un po' Ragazzi Ok Faranno qualche scambio In questa città Vedremo Vedremo Mincino Per Bascolin Non lo so Che dite nei commenti Ragazzi Lo faccio Mincino Per Bascolin Abbiamo catturato Mincino Entro oggi Riposo Entro oggi Non rompe il cazzo Signorina Ok Allora Siamo arrivati All'imbecioboli Oh c'è uno qua Surf Qua che dicono Tiro pure battute Rubaguori Oh Beesbull GG GG Buono 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 Ok Puliamo Ragazzi Io direi anche Di salvare qui Spero che questo Episodio Vi sia piaciuto Cos'è mangiata Di Alibbecioboli Mi raccomando Lasciate like Condividete il video E alla prossima Ciao Chichi